Ad un piemontese il premio volontario dell'anno è stato consegnato questa mattina a Roma, a Palazzo Rospigliosi, a Marco Alban, cooperante LVA, l'organizzazione che in mezzo secolo ha portato avanti decine di progetti in Africa. Milena Boccadoro. Per il suo senso di umanità, la capacità di tessere relazioni, la passione con cui lavora, sono alcune delle motivazioni con cui la giuria internazionale lo ha scelto come volontario dell'anno. Marco Alban oggi vive con la moglie senegalese a Ouagadougou, in Burkina Faso. Aveva poco più di 20 anni quando per la prima volta andò in Africa, una vacanza che gli ha cambiato la vita. Passavo un mese all'anno in costo d'avorio in famiglia e poi dedicavo una decina di giorni alla visita dei progetti che in quel momento Gruppa Bela aveva con la LVA in costo d'avorio. In quasi 20 anni come volontario LVA ha seguito tantissimi progetti di sviluppo in diverse zone dell'Africa. Io ho iniziato con un progetto nel 99 che era una delle prime esperienze di riciclo della plastica in Africa. Si dava lavoro alle donne, si faceva educazione ambientale e si dava da mangiare alla gente perché la gente ci portava la plastica che poi noi recuperavamo e gli davamo dei soldi in cambio. Questa esperienza è piaciuta talmente tanto che i finanziatori che ci aveva sostenuto, tra cui anche la Regione Piemonte e il Comune di Torino, ci hanno chiesto di replicarlo in altri paesi. Quindi è un'esperienza che è nata dalla Senega, abbiamo portato poi in Mozambico, in Guinea Conakry, in Burkina Faso e in Mauritania. Il premio volontario dell'anno è un riconoscimento importante, ma ancora di più lo sono, dice, i cambiamenti innescati dai progetti di cooperazione portati avanti con LVA in questi anni. L'altro giorno ho accolto una missione che veniva dall'Italia e proprio a Guadagou siamo andati a visitare in alcuni quartieri periferici molto poveri delle attività di riciclaggio della plastica che fanno esattamente quello che avevamo proposto noi 15 anni fa. Quindi l'idea ha avuto un successo, la gente la sta applicando, la sta creando con i propri mezzi.